Riconfermare e anche rinnovare l'attività amministrativa, abbiamo bisogno di altre energie. Voi ricorderete che noi nel corso del percorso amministrativo comunque abbiamo perso dei pezzi importanti, quindi abbiamo perso delle energie che potevano dare comunque un valore aggiunto al lavoro dell'amministrazione. Quindi adesso ci prepariamo al rinnovo, speriamo di eleggere 11 consiglieri ben motivati che possano dare un contributo al progresso di Procida. Il lavoro è importante che lo facciano le persone e quindi i risultati si conseguono se ci sono delle persone che si appassionano, si impegnano, ci mettono tutta la loro buona volontà. E credo che abbiamo una squadra adeguata per fare questo genere di lavoro. Noi dobbiamo gestire i finanziamenti, innanzitutto abbiamo dei finanziamenti già pronti, 9 milioni per la Corricella, ci sono 5 milioni per Terra Morata, poi c'è il centro polifunzionale di Via Saletta. Insomma un bel po' di soldi, un numero consistente di finanziamenti che dobbiamo mettere subito in esecuzione. Abbiamo già fatto alcune care d'appalto, altre le faremo, quindi senz'altro questo ci assorbirà. E poi abbiamo il progetto di Procida Capitale della Cultura, perché la nostra candidatura sarà valutata a partire dal mese di ottobre, quindi con una grande attenzione dovremmo seguire questo procedimento e verificare se casomai abbiamo l'avventura già di cominciare tra le dieci finaliste. Una campagna elettorale che si sta in asprendo, soprattutto con dichiarazioni e botte e risposta sui social, dal suo avversario viene la richiesta di una pacificazione sociale. È una richiesta un po' paradossale. Ho fatto 5 anni di amministrazione, non ho mai replicato le continue accuse, bugie, contumele che ci venivano rivolte contro. Basta vedere il mio diario quotidiano, il mio profilo Facebook e confrontarlo con quello del capogruppo dell'opposizione per vedere che ho portato avanti il racconto delle cose che si facevano e dall'altra parte ho sempre avuto il controcanto e non delle proposte alternative. Quindi dopo aver prodotto una guerriglia verbale, una guerriglia sociale per mesi, per anni, adesso si propongono di fare la pacificazione. Non so manco che cos'è la pacificazione. Significa che poi nel momento in cui dovessero vincere loro nessuno può scrivere più, nessuno può parlare più. Che significa pacificazione? Io piuttosto propongo a tutti i concittadini di continuare a esprimere le loro opinioni. Ci mancherebbe anche critiche nei confronti dell'amministrazione, ma l'unica attenzione che devono avere è quello di porsi sempre in maniera garbata gli uni con gli altri. Perché il rispetto reciproco è fondamentale, rispettiamo le opinioni di tutti, però è che i termini devono essere sempre adeguati a quello che è un contesto di massimo rispetto della comunità. Abbiamo amministrato per cinque anni, ma c'è sempre una procida che vorremmo, una procida da migliorare. La politica è chiaro che è gestione dei problemi del quotidiano, grandi progetti, non si smette mai di guardare al futuro e procida che vorrei significa sempre questo.